L'Unione Italiana Scechi, sezione Valdinievole, ha organizzato insieme a Croce Rossa e all'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Scecità uno screening gratuito anti-glaucoma monzummano terme. Il camper mobile in dotazione è equipaggiato con un sofisticato macchinario in grado di misurare la pressione oculare in pochi istanti nel paziente senza utilizzo di colliri o gocce oculari. Il glaucoma è una patologia silente dell'occhio che se non intercettata in tempo può portare gravi danni alla vista fino alla scecità. È una malattia invalidante, è subdola, non dà segni proprio plausibili sin tanto che la persona poi arriva a degli stadi importanti. Te ne accorgi quando è già in atto e quando potrebbe già aver fatto i danni che purtroppo fa. Quindi la prevenzione è fondamentale, noi grazie anche al supporto della Croce Rossa di monzummano in questo caso e ovviamente a tutto l'impegno che ci mette la IAPB, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione, riusciamo a fare qui nella Valdinevole almeno 2-3, a volte 4 eventi di prevenzione. È già diversi anni che collaboriamo con l'associazione di Montecatini, con la sezione di Montecatini e siamo proprio vicini proprio perché capiamo che la prevenzione è tutto perché se uno previene è sempre meglio che curare, certo. Sono delle macchine che misurano automaticamente la pressione quindi non si usano colliri, non si usano farmaci e quindi è una questione di un attimo e viene data la risposta automaticamente.